Mi hanno detto che questa è la migliore mangiatoia di tutto lo Stato. Mi spiace, signori, ma l'ingresso è riservato ai soci. Ma io e lui siamo soci. Prego. Non c'è dubbio, sono sbirri. Sono loro. Prego. E se, signore... Allora? Allora che, signore? Portaci da mangiare. Forse i signori desiderano cominciare... Ecco, bravo, vogliamo cominciare, signore. Certamente. Io suggerirei... Non devi suggerire, devi portarci da mangiare. E alla svelta anche. Antoine, vino per i signori. Che cosa vi dicevi? C'era da aspettarselo. Io avrei giurato che il governo prima o poi... Fatemi la cortesia di non preoccuparvi. Se ci daranno fastidio, li addormenteremo. Beh, spero che non pensiate di... Non temete, Loper. Gli agenti federali non si uccidono, si comprano. E io non ne ho mai conosciuto uno che non fosse in vendita. Non farlo mai più, amico. E io non ho conosciuto. Ma perché eri di tanto? Et voilà. Et voilà. Grazie a tutti. Grazie, sarà ancora più facile di quanto pensassi. Grazie a tutti. È inammissibile. Mi faccia smettere. Se per dopo i signori gradiscono delle... Tu gradisci? Gradiamo. Antoine? Alla prossima. 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 Alla prossima.